Quando parliamo di insurtech ci riferiamo a tutte quelle tecnologie che riescono ad abilitare il mondo dell'assicurazione e diventa anche un concetto di insurance as a service. Questo in che senso? Ci riferiamo appunto a tutto quel mondo di tecnologie e quindi di aziende che le utilizzano in maniera avanzata che riescono ad abilitare la proposizione dell'assicurazione in maniera digitale. Tipicamente questo tipo di innovazioni si dividono in due e quindi ci sono innovazioni che chiamiamo disruptive e questi modelli abbiamo visto che sono più ricorrenti per esempio nel Nord America ricevono anche ingenti quantità di finanziamenti quindi Oscar su tutti lo ricordiamo come questa componente di insurtech che è arrivata alla ribalta negli ultimi anni. In Europa la tendenza del mondo insurtech è quella di concentrarsi nel costruire dei servizi e quindi delle piattaforme as a service che rendono il mondo dell'assicurazione più avanzato, più performante e più capace di dialogare con l'esterno. In questo senso la raccolta della collaborazione tra tutte queste entità viene gestita diversamente dalle aziende o sotto forma di partecipazione azionaria quindi con i venture capital, con delle joint venture o anche con degli acceleratori che vengono finanziati dalle società interessate a approfondire alcuni temi a internalizzarne anche le opportunità. Da questo punto di vista l'utilizzo di forme finanziate dai venture capital è senz'altro in Italia una forma residuale e quindi sappiamo che il mercato dei finanziamenti e degli investimenti nelle società e nelle start-up di insurtech è da considerare senz'altro il fanalino di coda. Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato di recente un dato riguardante la raccolta del mondo insurtech in Italia che è arrivata a cubare 600 milioni di euro quando gli investimenti quantomeno in Europa per non considerare le tematiche chiaramente del Nord America sono di ordine di grandezza 10 volte superiori più di 5 miliardi in Francia, più di 6 miliardi in Germania. L'auspicio è che il mondo insurtech anche in Italia riesca ad arrivare ad una raccolta di investimenti almeno pari al miliardo potrebbe essere un obiettivo raggiungibile per l'anno 2021. Questo anche grazie al fatto che complice ahimè la pandemia che si è già verificata ci sono stati dei trend o comunque degli eventi un po' più disruptive che fanno ben pensare al riguardo della capacità di raccogliere maggiori fondi da parte appunto del sistema insurtech in Italia. Sappiamo che il Covid ha accelerato il consumo e la fruizione del mondo digitale sappiamo anche che il PNRR sta prevedendo delle forme di maggiori investimenti e facilitazioni per le start-up digitali e di recente anche abbiamo visto qualche proclama tra virgolette in relazione all'avvento di sandbox per il mondo fintech che dovrebbero aiutare il comparto dell'insurtech a spiccare il volo anche perché c'è un grossissimo potenziale in Italia di quello che è il risparmio del singolo risparmiatore italiano. Quindi da questo punto di vista anche una facilitazione fiscale potrebbe agevolare l'investimento nelle forme di start-up. Da questo punto di vista vogliamo anche sottolineare il fatto che il mondo dell'insurtech è stato particolarmente importante in questi anni per sviluppare in particolare il mondo della bank assurance. È l'esempio di cui oggi riesco a parlare avendolo vissuto più da vicino e stiamo parlando di bank assurance digitale per il fatto che molte delle esperienze che riguardano l'insurtech, le prime anche in Italia, si sono attivate e riescono ad essere degli abilitatori di innovazione creando nuovi mercati con delle integrazioni piuttosto semplici abilitate da tecnologie di tipo API. Da questo punto di vista perciò insurtech significa bank assurance abilitata dove quindi il sistema di offerta riesce ad essere messo facilmente e prontamente a disposizione di banche che non riescono a costituire o non hanno diciamo le capacità finanziarie per costruire un proprio catalogo di offerta assicurativa. E questo sta aprendo anche altre dinamiche di distribuzione del prodotto assicurativo. Quindi grazie a questo tipo di abilitatori tecnologici l'assicurazione diventa disponibile anche su altre piattaforme e altri enti distributivi. Pensiamo per esempio alle telco piuttosto che alle industrie del mondo energy. Perché è molto importante fare innovazione in questo modo? È molto importante perché l'innovazione è sempre più correttamente anche dal mio punto di vista una tematica di open innovation dove open innovation si contrappone al concetto di autarchia. Un'azienda che pensa di fare totalmente da sé soprattutto quando la tecnologia evolve ad un passo che conosciamo ultimamente è un'azienda che non riesce quantomeno ad ottimizzare una tematica di time to market e di capacità di cogliere le opportunità della tecnologia o che non riesce ad avere il focus nell'opportunità del risparmio dei costi. Da questo punto di vista l'esempio di quanto abbiamo fatto all'interno del gruppo Intesa San Paolo con la sperimentazione tramite Intesa Assicura, un provider di prodotti terzi e un broker e quindi un abilitatore digitale alla distribuzione rende bene il concetto dell'aver costruito un ecosistema dove per le priorità di piano strategico il comparto assicurativo del mondo di Intesa San Paolo non avrebbe potuto in rapido tempo mettere a terra delle sperimentazioni nella vendita di prodotti innovativi e on demand, si è ricorsi invece ad un ecosistema di risorse terze, ripeto un abilitatore digitale alla distribuzione quindi un intermediario digitale e un provider di prodotti terzi. Avendo costruito in questo modo un ecosistema di offerta con diversi ingredienti provenienti dall'esterno, si è riusciti a sperimentare la vendita sia da un punto di vista di customer journey e di efficacia commerciale, sia da un punto di vista di appeal tech e di tenuta tecnica di questo tipo di prodotto in molto minor tempo e ovviamente con un ordine di grandezza tre volte inferiore dal punto di vista anche dei costi rispetto a che se si fosse scelta la strada del lancio di prodotto totalmente costruito dall'interno. Quindi innovazione è molto importante, innovazione piuttosto complessa all'interno di gruppi grandi come quello che io oggi rappresento, quindi il gruppo Intesa San Paolo, fare innovazione è molto importante, è molto importante essere strutturati e coordinati nel farlo e allo stesso tempo piuttosto difficile da certi punti di vista perché la disponibilità della cultura e dell'esperienza e anche dei capitali è piuttosto elevata, tuttavia i processi tipici di un'azienda grande come Intesa San Paolo sono anche tali per cui potrebbero diventare poco compatibili con il mondo delle startup, tant'è che a volte assistiamo a un mismatch di velocità nel procedere che la startup partecipata dal gruppo Intesa San Paolo potrebbe vivere in relazione invece a quelle che sono le procedure ordinarie di governance per prendere delle decisioni ad un gruppo grande come questo. Ecco quindi che si assiste all'opportunità di ricorrere ad un sistema di open innovation verso l'esterno ma allo stesso tempo che anche aziende nonostante siano startup un po' più strutturate e mature potrebbero finire schiacciate nella morsa tra virgolette di un sistema di governance complesso quale quello dei grandi gruppi. Che cosa è stato importante per il nostro gruppo all'interno di questo viaggio? Beh senz'altro abbiamo detto le competenze, sono state importanti anche la disponibilità dei capitali, quindi il nostro gruppo ha un approccio di venture capital nei confronti dei sistemi di innovazione in cui crede, dai quali si aspetta ovviamente un ritorno finanziario, di recente trasformato anche il venture capital in SGR a sostegno di questa tematica, ma anche un approccio di investimento industriale dove si possa intravedere una relazione con il core business piuttosto importante. Ribadisco l'opportunità anche di aumentare e coltivare tra virgolette un approccio chiamiamolo per esteso di diversity da quale punto di vista? Del mettere a fattor comune di creare gruppi di lavori per la messa a terra di questo tipo di innovazioni che siano il più diversi possibile al loro interno. Questo significa che nella creazione di una giornata digitale per il lancio di prodotti innovativi i gruppi di lavoro saranno composti tipicamente da persone di diversi tipi di provenienza ed esperienza per beneficiare del massimo apporto possibile degli aspetti appunto di conoscenza tecnologica, di customer experience e di prodotto che si influenzano reciprocamente quando si tratta di mettere a terra prodotti e value proposition innovative.